La luce del sole è fantastica ma ci obbliga a riparare gli occhi, quindi è ovvio che dobbiamo migliorare il concetto della protezione con gli occhiali da sole, se parliamo dei bambini dobbiamo anche ricordarci che i bambini devono avere il cappello con una visiera e gli occhiali da sole perché giustamente noi abbiamo le mamme migliori del mondo che sono giustamente sotto l'ombrellone con tutte le creme, con gli occhiali da sole, tutto perfetto perché abbiamo lavorato molto bene in questi ultimi vent'anni, poi però ci si accorge del fatto che il bambino magari fuori attenzione, fuori dall'ombrellone senza protezione, quindi lì gli occhiali da sole dei bambini devono essere sempre di qualità, basta andare dall'ottico, l'ottico è la persona certificata che rilascia appunto un certificato con le caratteristiche e la qualità della protezione delle lenti, questo è fondamentale. L'altra cosa che viene utilizzata molto sono le lenti a contatto al mare perché i portatori di lenti a contatto che comunque durante l'anno hanno difficoltà normalmente a portarle, è ovvio che devono avere delle regole fondamentali, primo le lenti devono essere sempre usa e getta, cioè una volta messe e una volta tolte devono essere cambiate perché questa è la sicurezza. La seconda cosa quando si fa il bagno, noi non lo consigliamo con le lenti a contatto, finito il bagno però bisogna cambiarle perché la lente a contatto è come una stugna. Quindi l'altra cosa fondamentale e chiudo è il calore, il calore ovviamente fa evaporare tutto, fa evaporare l'acqua del mare, ci sono i temporali e tutto, ma fa evaporare anche le lacrime dei nostri occhi e anche le sostanze lubrificanti. Quindi dobbiamo portare particolare attenzione a questo, sapere che dopo i 50 anni la quasi totalità delle persone soffre di un disturbo che impropriamente è chiamato occhio secco e oggi questa situazione ha delle regole, dei sostegni. Sapete che esistono dei lubrificanti, io non voglio più chiamarli lacrime artificiali perché quando parli di qualcosa di artificiale oggi ti metti fuori dal mondo e soprattutto tutto questo va assistito con i controlli che ricordo la società ocamologica italiana ha sempre portato avanti. Una visita alla nascita, in due o tre anni, il primo giorno di scuola, dai 10 ai 15 anni per controllare la miopia, poi si passa dai 40 ai 60 anni ogni due anni e dopo i 60 anni una volta all'anno.